Vede sul ponte sullo stretto ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi e ricordo che oggi il 90 per cento delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio di fronte a questa situazione non vorrei spendere miliardi di euro per un ponte in mezzo al mare lei ministro sa che questa frase non l'ho detta io vero ministro Salvini perché questa frase l'ha detta lei poi arrivo al virgolettato di quello che ha detto sul ponte che diametralmente opposto a quello che ho appena sentito ma sono questioni di punti di vista evidentemente ma ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi non faccio un ingegnere vorrei avere quelle rassicurazioni e ricordo come mi hanno detto tanti siciliani fra ieri sera e stamattina che oggi il 90 per cento delle ferrovie in sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio quindi non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi sia in sicilia che in calabria i treni non ci sono vanno a binario unico a a a No, no, no.